Oggi in prima pagina sulle 24 ore il titolo Il PIL 2015 cresce dello 0,8%, lavoro 70.000 posti in più. Come commentarlo? Commentiamo dicendo che occorre forse un'operazione verità su questi posti che crescono. Sicuramente come sindacato bisogna guardare positivamente che crescono i posti di lavoro. Dobbiamo capire a che cosa è dovuto, se agli sgravi contributivi messi nella legge di stabilità o se è effettiva e vera occupazione. E quindi bisogna guardare a lungo termine in cosa si tradurranno. Ecco, Renzi parla di un boom del Job Act impressionante, definito impressionante. Il Jobs Act come lo vogliamo considerare, come contratto che riduce i diritti man mano che le persone entrano. Se è questo lo sviluppo del Paese, noi chiediamo giustamente una giusta riflessione. Per capire se in effetti questi si tradurranno in un'occupazione vera, un'occupazione con diritti. È un'occupazione che consenta soprattutto alle giovani e generazioni di guardare con serenità al loro futuro. Un commento anche sul dato che a gennaio bene gli over 50 ma sale la disoccupazione giovanile? È questo il problema, perché gli effetti di questo trend riguardano soprattutto una fascia di età molto elevata. La preoccupazione grande è soprattutto sui giovani, perché noi già abbiamo a livello generale una disoccupazione altissima. Se continuo a salire, forse una domanda ce la dobbiamo porre. Ecco, nel senso di ma che tipo di occupazione stiamo costruendo? E soprattutto per i giovani. Vi faccio un esempio. Stanno crescendo moltissimo le iscrizioni ai licei scientifici, stanno diminuendo le iscrizioni a quelli che sono gli istituti professionali, gli istituti che in teoria o nel passato dovevano costruire posti di lavoro oppure le figure tecniche intermedie nei processi lavorativi. Allora, anche su questo occorrerà riflettere per capire che tipo di sbocco occupazionale si sta costruendo per questi ragazzi, perché se aumenta così tanto la disoccupazione giovanile vuol dire che non ci sta un tessuto produttivo che possa poi metterli dentro.